Dunque, questo dopo lo puoi innestare quando parlo delle grandi canzoni. Lo puoi innestare in quella... Le grandi canzoni italiane. Adesso mi viene in mente una. Femmina, tu sei una mala femmina, che stuoccaffatta, che agnere, lacrime, infamità. E mi fa venire in mente il mio grandissimo amico e maestro, il principe Antonio De Curtis in arte Totò, che fece con me tre film. Totò, Peppino e la mala femmina, che l'hanno visto tutti, si può dire. Ed è di tutti i film che ha fatto Totò, quello ne ha fatti 120, mi pare, 129 film. E quello che è stato di maggior successo, sotto tutti i rispetti economici, eccetera, tutti parlano ancora di Totò, Peppino e la mala femmina. C'era la famosa lettera, eccetera, eccetera. Poi, io in quel momento non conoscevo il napoletano, perché sono triestino, e quindi il napoletano, io dicevo, agio perduto suonno, come è scritto, ho perduto il sonno. Agio perduto il sonno. E invece Totò mi dice, no, vedi che noi siamo pigri, devi sfumare. Ma che sfumo? Dico, tu non devi dire suonno, devi dire suonno, suonno. Agio perduto suonno, perché si ammora. Agio perduto il cuore, appriesso a te. Io ho imparato la lezione, perché fortunatamente c'è una buona paletta, e vi assicuro che in quegli anni ho lanciato più canzoni napoletane, io che tutti gli altri napoletani insieme, e faccio i titoli. Allora, Mala femmina, in primo luogo. Poi c'era accarezza, ma senta fronte che mi brucia, c'era stat vicino a me, per nata sera, c'era che lalla, che lalla, mo' va dicendo che mi vuole sa. Poi ho vinto il Festival di Napoli addirittura, con la canzone di Murro, sarra chissà, sarra sta luna che è, una musica lontana. Io, Triestino, ho vinto il Festival di Napoli, e quindi molte persone, anche per strada, nei bassi napoletani, una volta camminavo, si vedono dentro le camere da pranzo, a livello stradale, e mi hanno beccato, a te direi, tu sei napoletano, devi entrare e mangiare la pasta asciutta con noi. E ho dovuto mangiare la pasta asciutta, perché c'erano gli americani, che non credevano che io fossi non napoletano, addirittura, perché avevo fatto una serie di vendite straordinarie, e quindi mi considero cantante italiano, napoletano. Poi, nel nostro spettacolo, mettiamo anche delle grandi canzoni americane. Io l'americano lo imparai all'inizio della carriera, perché feci parte dell'orchestra di Teddy Foster, da cui ho preso anche il nome Teddy Ruino, dicevano loro, e ho cominciato proprio a cantare il swing americano, girando tutta Europa, dove c'erano nel dopoguerra le truppe anglo-americane, e noi facciamo spettacoli soltanto per i soldati anglo-americani. E poi, invece, ho sposato anche la Francia, perché una canzone mia che faceva addormentarmi così, fra le tue braccia, divenne in Francia, come on è bien dans tes bras, sans faire un geste, le monde et le reste, n'importe plus pour moi. Io ho facilità anche per il tedesco, per una canzone dedicata a Vienna, Mein Herz und mein Sinn schwärmt stets nur für Wien, 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 nur du allein, soll stets die Stadt meiner Träume sein. E quindi faccio anche un genere. E' uscito, non è uscito questo disco, perché non lo vogliamo far uscire, vedete c'è scritto, se direi non 70 anni, se non sbaglio, di carriera, perché al primo posto c'è una canzone che è dedicata a un tale, con la T molto maiuscola, che ricevette me, Rita Pavone, i nostri figli, Alex, che ha 46 anni, è un ottimo giornalista della radio-televisione svizzera, e Giorgio, 41 anni, è un ottimo musicista rock, e sì, c'è un complesso molto buono, quindi non serve per la canzone italiana, ma però è molto bravo. Allora questa persona ci invitò, una telefonata di questo sconosciuto, che ha chiamato mia moglie Rita in Svizzera, e dicendo, signore io ho visto la sua ultima produzione, che sono 16 canzoni americane, cantate sia in americano che in italiano, mi è piaciuto moltissimo, sono suo vecchio ammiratore, e mia moglie, che sapete, è un tipo brigativo, dice, ah grazie, lei che fa di bello, e io lavoro in Vaticano, ah in Vaticano, che cosa fa? mi chiamano Papa Francesco, al che mia moglie dice, senta per piacere, alla vigilia del Natale, non sono scherzi da fare, no signore, perché io ero al Luna Park di Buenos Aires, l'ho applaudita, fin dal 1965, allora quando Rita, capito, che stava parlando col Papa, che telefonava con un telefonino, ha cominciato a tremare con i piedi, non riusciva più a fermarsi, e poi siamo stati ricevuti il 12 febbraio 2014, e lui casualmente mi disse, usted tiene che cantare un tango argentino, mi ha detto, e allora io ho detto, guardi non posso competere con i grandi tangheros argentini, perché loro hanno un modo di fare il tango, che io non posso fare, perché hanno un'enfasi particolare, adios pampa mia, adios cammino che recorrido, non lo posso fare, allora abbiamo scritto invece una canzone, che è metà swing e metà tango, e si chiama, guarda caso, Uno come noi, e perché uno come noi? Perché è proprio lui, il Papa, che io descrivo, col testo mio e la musica di Silvia Pagni, quest'uomo straordinario, certamente, comincia con dei bambini, che fanno Papa Francesco, è uno come noi, eccetera, che quando, e poi dice, che quando parla, ti dice, buonasera, si stringe fra la folla, che lo adora, e bacia chi li vuole tanto bene, Papa Francesco, che gira per le chiese, a tu per tu, coi preti e i parrocchià, diffonde il verbo sacrosanto del Vangelo, che parla di perdono e libertà, e poi il tango, Cantar, cantar, sognare, una nuova e bella umanità, senza l'intriga e i soldi dei potenti, pieni di borria, di violenza e di tangenti, cantar, cantar, sognare, una nuova e bella umanità, che faccia vivere felice tutto il mondo, senza più povertà, e quindi avremo, in questo giro, che noi faremo in tutto il mondo, anche un appoggio delle autorità religiose, per cercare dappertutto delle melodie che riportino la canzone italiana ai fasti del secolo scorso, cominciando da quel Caruso che lanciavano. E secondo te ci sono i talenti oggi? Per riportare la canzone ai fasti di un tempo? No, momento, i talenti ci sono, ma però oggi le case cosiddette discografiche, prediligono fare un genere che è di ispirazione invece anglo-americana, cioè il rap o le canzoni, che attenzione, tanto di cappello a chi lo fa, ma non sono canzoni italiane, tanto è vero che anche le canzoni che vengono lanciate dai grandi festivals italiani, hanno l'espace del matin, come dicono i francesi, hanno lo spazio del mattino, ma poi vengono dimenticate perché gli stranieri non riconoscono l'Italia in questi brani attuali. E quindi noi invece ricreeremo la grande canzone che dominò il secolo scorso, anche con i grandi tenori, come Pavarotti, Domingo, per non parlare appunto di Caruso che nel 1904 era il Metropolitan Opera House di New York, quando non c'era ancora, non so, mi pare nemmeno la radio ancora, non so, c'erano soltanto i dischi fruscianti, lanciò che bella cosa, una giornata sola e questo valse a far sì che gli emigrati italiani, che erano milioni, che erano cominciati a emigrare dall'Italia verso gli Stati Uniti dal 1880, a metà dell'Ostocento, erano stati accolti malissimo perché venivano trattati come tutti i mafiosi, no? Come noi in fondo, noi, io no, ma come trattiamo per esempio i romeni, non è vero perché anche fra i romeni ci sono i mascalzoni e ci sono la gran parte che c'è gente invece che non ha da mangiare onestamente. Noi per esempio abbiamo una governante in casa che è proprio romena ed è la miglior governante che abbiamo mai avuto e porto un saluto anche di Rita Pavone che è in questo momento in Svizzera perché in un certo senso lei ci darà una mano essendo ritornata nel lagone dopo dieci anni di silenzio dovuto a una cardiopatia che ha tre bypass però due anni fa fu chiamata da Gianni Morandi carissimo amico nostro che gli disse senti Rita fai un'eccezione per me vieni all'arena di Verona con 25.000 persone e tutti hanno visto questo spettacolo che hanno fatto Rita interpretando le canzoni di Morandi Morandi interpretando quella di Rita e fu un successo clamoroso allora a questo punto Rita ha detto io senti io me ne frego se devo morire devo morire e è ritornata a cantare e in questo momento siamo artisticamente separati perché io sono impegnato già da tempo con Silvia Pagni con la Bruzzo e lei viene chiamata un giorno in Canada un giorno a Torino ieri era a Torino per esempio ieri sera e vi dico sinceramente che Rita sta stupendo me il che è tutto dire perché sono suo marito oggi Rita Pavone di oggi è ancora migliore di quello che era 50 anni fa ha compiuto 70 anni se lei la vede camminare gli anni dà 25 in scena negli anni dà 20 appunto e quindi anche Rita darà un appoggio in qualche modo la faremo venire quando andremo a New York o in posti molto importanti come ospite d'onore bene grazie tante belle cose grazie 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 grazie